Siamo all'inizio di un nuovo anno, quindi che sia un buon 2023 per tutti e che possiamo vivere tutti serenamente questo nuovo anno. Un messaggio sicuramente di positività. Il saluto del nuovo prefetto Emanuela Saveria Greco ai cittadini della provincia di Pesaro e Urbino. Mentre ha in corso i primi incontri istituzionali, promette di visitare presto tutti i 50 comuni del territorio. Un'attenzione speciale per chi è stato colpito da una calamità come l'alluvione che ha sconvolto alcune zone dell'entroterra. Io sono qui, vivo praticamente in prefettura, perché l'alloggio è in prefettura, quindi la mia presenza e la mia vicinanza sarà assoluta. Soprattutto per i cittadini che magari hanno più bisogno, in me troveranno sempre una persona pronta ad ascoltare e ad aiutare. Domani il neoprefetto sarà a Urbino per prendere contatto con l'altro capoluogo della provincia, già monitorata la situazione sul fronte della sicurezza. Io penso che sia fondamentale la sicurezza percepita, quindi dobbiamo far sì che i cittadini percepiscono proprio questo senso di sicurezza nel vivere nel loro ambiente. Quindi con le forze di polizia faremo di tutto per poter assicurare questo alto livello di sicurezza. Tra gli incarichi già sostenuti è anche un periodo al Dipartimento Immigrazione del Viminale, tema caldo con l'arrivo delle navi ONG a Dancona e il possibile riparto di migranti sul territorio regionale.